Fioralba Herrera è presidente del Centro Studi Storici e Ricerche Archeologiche di Pieve Santo Stefano, che si prepara tra l'altro a celebrare tante altre singolari scoperte in questo territorio. Ma intanto le chiediamo come è nata l'idea di dedicarsi alle merlettaie che in qualche modo ricostituirono l'arte del merletto a Pieve Santo Stefano nel dopoguerra. Allora il nostro Centro Studi innanzitutto è rivolto alle attività, ai monumenti, ai personaggi di Pieve Santo Stefano e più di una volta ci siamo trovate a dover raccontare la storia di questo paese distrutto. Questa volta lo abbiamo fatto attraverso le merrettaie, cioè quelle donne che dopo la guerra, durante la ricostruzione delle case, lavoravano anche in situazioni precarie insieme alle altre donne del paese e hanno ricostruito in qualche maniera parte della loro famiglia, delle loro spese personali per ricostruire le loro case e questo è sicuramente un taglio sociale che abbiamo sempre ricercato nelle nostre attività. Non è un caso che la mostra dedicata dal titolo Storia di Intrecci e Fantasia si svolga in uno spazio al fianco dell'archivio dei diari. Si direbbe che il taglio con cui avete studiato questa parte di artigianato artistico è proprio quello della memoria? Sicuramente Pieve ha da raccontare tante storie, sono le storie dei suoi abitanti, le storie dei suoi monumenti, le storie di ogni piccolo angolo che deve essere valorizzato. Dopo la distruzione della guerra tutte le persone si sono date da fare per ricostruire questo paese, però ancora c'è tanto bisogno di raccogliere testimonianze, di raccogliere racconti e questo naturalmente avviene in un luogo pubblico, il Palazzo Comunale è il luogo di tutti. L'esposizione viene fatta nella Sala delle Arti del Palazzo Comunale e quindi qui ci ritroviamo a fianco al Museo del Diario della Memoria che è invece a livello nazionale e internazionale. Questo vuol dire che c'è la volontà, la necessità di ricuscire le storie sia di abitanti di Pieve che sono appena 3.500 e le storie che sono invece depositate nell'archivio che sono più di 7.000. Quindi non si finisce mai di raccontare storie. Pescando in maniera puntiforme tra queste storie esce per esempio anche la storia triste di chi dovutasi sposare sostanzialmente per procura rimane pochi mesi col marito per poi saperlo morto dopo 3 mesi averlo lasciato. È accaduto anche questo? È accaduto questo, è accaduto in molte famiglie perché a ridosso della guerra c'erano tanti soldati che tornavano ammalati e la loro famiglia riunita sotto una baracca, sotto un'abitazione fatiscente si è dovuta in qualche maniera ricreare un proprio futuro. Chi ce l'ha fatta, chi è riuscito a superare le difficoltà della guerra sicuramente ha trovato nelle donne un punto di riferimento, una colonna portante della loro esperienza lavorativa, della loro esperienza di vita vissuta prima del conflitto e insieme si sono abituati a aiutarsi l'uno con l'altro. Qualcuno invece non ce l'ha fatta perché anche molte persone sono decedute nelle macerie di Pieve Santo Stefano perché alcune mine non erano scoppiate al momento in cui i tedeschi si sono ritirati e sono successe delle disgrazie anche successivamente. L'opportunità economica che il merletto diede nel dopoguerra alle donne permise a queste donne di portare avanti la propria famiglia, è vero che qualcuna riuscì pure a costruirsi casa? Sì, non solo a mantenere i figli agli studi perché si vedeva necessario che l'istruzione diventasse la base per nuove attività, nuove professionalità, ma queste donne non solo sono riuscite a far ricostruire ai propri mariti le abitazioni che avevano prima della guerra, ma alcune si sono potute permettere anche degli altri appartamenti o alla Pieve stessa oppure anche fuori ad Arezzo o a Perugia. Questo ha dato modo a queste donne, a queste famiglie di ricreare una situazione economica un pochino più elevata di quella da cui erano partite come contadine o addirittura famiglie mezzadrilli nelle campagne di Pieve prima della guerra. Dal punto di vista tecnico, perlustrando la mostra, si notano nelle teche e esposti nelle pareti dei pezzi che richiamano disegni tradizionali per la maggior parte provenienti dalla grande scuola di Sansepolcro, ma non solo. È vero che Pieve Santo Stefano ebbe anche una sua tipicità? Sicuramente l'influenza che ha avuto la scuola di Gina Marcelli a Sansepolcro agli inizi del secolo ha sviluppato in tutta la Valtiberina delle attività legate al merletto a Fuselli, con delle diversità che dipendevano dalla possibilità di avere disegni originali che potevano venire dalle Marche, dall'Umbria o da Firenze o da altri luoghi dove il merletto era molto sviluppato. Però è anche vero che le merlettaie di Pieve hanno intuito una certa originalità e hanno creato anche dei disegni che non sono presenti in altre attività di merletto qui nella zona. Il 2015 le merlettaie e il loro lavoro prima della guerra, nel 2017 l'immediato dopoguerra. Ci possiamo aspettare un'altra mostra in futuro e quando? E ci state già lavorando? Stiamo pensando di poter affermare che questo merletto non è mai finito e quindi una continuità c'è stata dagli anni Sessanta in poi, anche se il mercato non è stato così fiorente, così richiesto, questo tipo di merletto nelle abitazioni e nelle case di un certo livello economico. Tutto è decaduto naturalmente con l'inizio dell'industrializzazione, quindi anche i tessuti industriali provenienti dall'industria hanno tolto il posto a delle invece attività artigianali, manuali come quelle dell'immediato dopoguerra. Questo però non ha pesato sulla volontà, sulla creatività di alcune ragazze che hanno continuato anche dopo gli anni Ottanta a frequentare comunque delle scuole che qui intorno a Sansepolcro specialmente formavano queste ragazze e hanno continuato alcune a ingegnarsi e a creare anche dei disegni nuovi per poter mantenere questa tradizione. L'Italia è piena di segreti, misteri, storie. Piave Santo Stefano non fa eccezione. È vero che il 9 settembre a Piave Santo Stefano viene svelato un'altra straordinaria curiosità. Dietro al tempietto di Colle Destro, anche grazie alla formidabile intuizione di Stefano Camaiti, artista e ricercatore di fatti storici, che cosa si nasconderebbe dietro a questo tempietto? Non lo vogliamo svelare fino all'ultimo. Comunque io sono stata chiamata come architetto, come insegnante di disegno geometrico e quindi darò delle chiarificazioni su quello che Piero della Francesca ha scritto nel suo trattato De Prospettiva Pingenti. Alcune delle signore in mostra merlettaie furono autenticamente riconoscibili come delle caposcuola, tanto che ebbero delle allieve. È così? Sì, sì. Allora, loro sono tutte, quelle che poi sono state maestre, a sua volta erano state allieve della maestra della scuola Lamponi. La maestra aveva dato un input di notevole livello, quindi un merletto molto, molto complesso, molto bello e molto raffinato. Loro, a loro volta, hanno poi insegnato e quindi si erano formati questi 4-5 gruppi a pieve. Ognuna di loro poteva arrivare ad avere anche 10 merlettaie che lavoravano insieme a lei. Loro hanno prima insegnato e poi alcune di loro sono diventate imprenditrici, cioè consegnavano i cartoni alle ragazze, le ragazze realizzavano il lavoro e riportavano il lavoro finito. Nella prefazione che avete fatto a questa mostra avete messo in luce come i pezzi messi in mostra siano piuttosto frugali, non così spettacolari come era accaduto nella mostra del 2015. Perché? Perché cambia la committenza. Nel 2015 Iole Lamponi istituisce la scuola ed è amica, ha studiato, la signora è della metà dell'Ottocento, ha studiato a Firenze alla fine dell'Ottocento insieme a quella che sarà la dama di compagnia della regina Elena. Quindi la committenza di quella scuola era la casa reale, addirittura si parla di pezzi che poi andranno dal papa, quindi il clero, quindi una committenza importante, si parla di case reali europee, quindi capisci che la committenza era proprio importantissima, disposta a pagare cifre notevoli, quindi disegni importanti, materiali importanti, fili di argento, fili grana d'oro, pezzi di un valore estremo. Cambia tutto con la seconda guerra mondiale. Le committenze di queste signore della mostra di quest'anno sono signore che stanno sì bene, ma sono signore di Arezzo, Firenze, Roma, Perugia o Milano. Abbiamo una signora che lavora esclusivamente per Milano, però decisamente meno importanti di un re, disposti a pagare meno di un re, quindi un merletto più semplice. Oggi la M&F che Maria Elena Fanfani insieme a Livio Gallori portano a livelli internazionali con il disegno di merletti nuovi, ci fa pensare che ci potrebbero ancora essere spazi anche a Pieve Santo Stefano per rilanciare quest'arte? Sì, perché è nato un gruppo, stomboliamo insieme, con cui io stombolo, siamo una ventina di signore, addirittura alcune bambine, ci incontriamo per stombolare insieme, per stare insieme, per passare del tempo insieme, magari scherzare, però apprendere anche la meravigliosa arte del merletto. Tutte le volte che abbiamo visitato questa mostra abbiamo trovato sempre tanta gente, da un po' tutta Italia e forse anche dall'estero. L'interesse c'è stato? Moltissimo, moltissimo. Inaspettato direi. Nel 2015 secondo me il livello della mostra era decisamente superiore, ma forse avevamo anche dato poco spazio, avevamo pubblicizzato poco l'evento e poi purtroppo era durato poco, perché era durato solamente quattro giorni. Quest'anno, che abbiamo aperto il 12 di agosto, è stato un vero successo, anche da parte di persone molto competenti. Sono venuti maestri e maestre da tutta Italia e questo ci ha gratificato molto. Oltre ad un pubblico invece totalmente ignorante in materia, perché non conosce l'arte del merletto, ma affascinato dal legame che c'è stato con la distruzione totale di Pieve e la ricostruzione di un paese, anche grazie al merletto. Tradizionali feste del 7 e 8 settembre a Pieve Santo Stefano. Incontriamo l'assessore Luca Gradi sul ponte che ci permette di vedere uno dei tradizionali pagliai a cui verrà dato fuoco raggiungendo altezze formidabili con le fiamme proprio nell'alveo del Tevere. Allora, è vero che queste celebrazioni sono retaggio di tradizioni antichissime? Sì, certamente. La festa del 7 e 8 settembre è la festa per antonomasia di Pieve e Santo Stefano, dedicata alla Madonna dei Lumi. Si festeggia, si ricorda un'apparizione miracolosa della Madonna che viene vista in processione con degli angeli che reggono dei lumi, delle candele, che dalla chiesina del Colle Destro portano fino al luogo dove è stata realizzata ed edificata il santuario della Madonna dei Lumi. Quindi si perde nella notte dei tempi a cavallo tra il 500 e il 600. Questa è la festa del paese e questo che tu stai inquadrando, ovvero uno dei due pagliai che vengono fatti tutti gli anni dai due rioni storici, perché i rioni sono quattro ma due sono più storici degli altri, ovvero il Ponte Vecchio e il Ponte Nuovo, la sera del 7 settembre al passaggio di questa processione che ricorda questo evento miracoloso, i due pagliai vengono accesi in maniera spontanea dai fedeli e al passaggio della processione si ottiene un effetto stupendo. Forse diciamo che la vera festa di Pieve si svolge la sera del 7 durante questa accensione di questi pagliai. Quindi la luminaria effettiva è questa. Anche perché poi ci sono delle luminarie artificiali che sono posizionate sui ponti, anche quelli fanno parte della festa. Chiaramente poi la festa ha avuto vari passaggi, è sempre stata la festa più importante di Pieve, ma ormai da molti decenni si caratterizza con l'illuminazione anche artificiale dei quattro rioni a questo punto, quindi non solo Ponte Nuovo, Ponte Vecchio, ma anche centro paese o come ci piace dire di più campo alla Badia e il rione Rialto che è nella zona nord del paese che anche loro fanno dei lavori stupendi. Quindi i quattro rioni si illuminano la sera del 7 e poi prosegue l'8. Tante le manifestazioni in questi giorni, per esempio una bellissima mostra curata da Maria Elena Fanfani riguardante il Merletto, perché anche il Merletto è una realtà che a Piersenzo Stefano soprattutto in certi anni ha rappresentato un'opportunità di sviluppo economico. Hai perfettamente ragione, la mostra del Merletto si inserisce benissimo in questo periodo settembrino che non solo per Pieve, ma un po' per tutta la vallata si caratterizza per eventi importanti, non ricordiamo appunto Sansepolcro, ma per Pieve il settembre è importante, quindi la mostra del Merletto ci sembrava giusto inserirla in accordo appunto con l'associazione del Merletto di cui Maria Elena Fanfani è la leader, la promotrice, e di inserirla in questo periodo.